E come ho spazi a rubriche settimanali, nuovista al mondo. Fieste alla Plata in Argentina per ricostruzione di sede di famiglia Furlana. Ai 22 febrile 2019, una trombe violente di aia sulla città e ha distaponato un fabbricato confinante che il suo cuvierta l'è finito sulla sede di famiglia Furlana. Provocando grandi dams strutturati al cuvierta ai cousines e al salone. C'è anche il chiam di Balis. Il futuro del Sodalizzi, fondato in tal dicembre del 1936, ha pregiudicato con serietà ma gli Furlani e i Furlans di la Plata non si sono perduti di anni, decidendo di ricostruire il fogolar. I lavori, facilitati anche in grattis di un'importante poie economiche dall'Enfriul in tal mondo, sono stati realizzati dal presidente del Sodalizzi Joachim Asuaie e dai componenti delle commissioni direttive. Elezza ai 19 di settembre dal 2019 in Teams Record. In occasione delle fieste, dai 3 di avril, i soci hanno potuto entrare in tal rinnovazione locale della sede, con l'inaugurazione delle palestre, da qui che appoderanno essi praticati diversi disciplini. A Curtea saranno rinnovati i spazi cui lo zamenz dedicati agli ospiti in visite a e sede dal fogolar. E di lungo delle fieste, i soci hanno intonato un chianto in Furlans. Sintinglu. A Inuf Di Mai, pari Claudio Snidero, custodi dal Sanctus, Sanctuari di Madone di Monta, Buenos Aires, ha avuto copie delle ordenanze dal consegne che al delibere delle municipalità di 3 di febriero, con anche la pergamene che lo declare cittadini, in nominato delle località. La onorificenza è stata consegnata dal sindic Diego Valenzuela. Pari Snidero, originari di Sant'Andrà dagli Udri, frazione di Quardi Rosacis, ha l'è dal 1985 il plevan dal Santuari di Nuestra Signora di Madone di Monta, volute, fondata e periferie di Buenos Aires, di Precarisio, Barbucion di Orsarie, in tal 1936. Grande fieste per comunità di Union Furlane Madone di Monta, pari Claudio, alle soci. E propite dal Santuari di Madone di Monta, Buenos Aires, arrivi in il salute e la benedizion di pari Claudio Snidero, in viste derivate dal ZIR di Italia, ai Vinchieset di Mai, al Santuari di Madone di Monta, in Friul. A voi saluto da la Tiantine e Parduti Corredor, un onor par noi che il giro di Italia arribe fin a Castelmonte. Mandi, mandi, come doi la pedaure a nostri rector, Monsignor Claudio Smiglio. Ed è un onor parmi veramente di voi, poter comunicare e indicare di Buenos Aires, qui che sta nella sola montagna di Madone di Monta, e dè grazie al Signore che lo sa unis mediante questa presidencia della Madone, che è partita di là, cinquante due anni fa, in Riva di Cà, per chattarsi con questi furrani che sono tra questo gran paese di Argentina. Grazie, Signore, per segursar su mandato a Castelmonte, e ti preghi che Castelmonte puoi di nini e nini unis sempre. Us mando una felicità a tutti che stagliare, che puoi vivere questa zona di fiesta, di alligria, e che leo una presidencia di Bavaria di Sintutre Italia, e che leo frio. Grazie, e quali che passate per qua, venite a visitarci, qui è santuario di Madone di Monta, di Podestà, Buon Sancti. Us doi la benedizione del Signore, e che vive in Finlandia, e intercone di tutti i fami, che vive in questo buon paese, in nome del Padre, del Spirito e del Spirito Santo. Amo. Il parlamentar Furlan, Renzo Tondo, e il collega Eugenio San Gregori, eletti in te circoscrizion foresta e d'America Meridionale, ha sostanza accettati in te i uffici di Udin, dall'ente Friuli nel mondo, dal Presidente Loris Basso, dal Presidente Onorari, dal Fogolar di Caracas, Enzo Gandin, Culafi e Claudia, di qualche rappresentante, dai Fogolars di Argentine, Anna I e Silvia Pagnà, dal Fogolar di Tandile, dal Fondatore e ex Presidente, dal Fogolar Furlan di Iarguei, Umberto Romanello, Culafi e Sandra. San Gregorio ha laudato i sacrifici, se la serietà de comunitat, dai Furlans, residenzi in Argentine e in Sudameriche, che col loro lavoro hanno contribuito al progresso e ai cresciti di tutto il continente. All'Araquel, dopo la clamade dai rappresentanti dal Venezuela, hanno trascurato la situazione drammatica dai connazionai che avvivano in tal paese. E per uscita le dute, si torniamo a vio di domani con i nuovi. Mandi, buona serata. Mandi, buona serata.